E ciao a tutti amici, io sono Axel, non è vero e oggi oh my god oggi sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi, nuovo episodio dell'Axel's Road to Glory che se non mi sbaglio dovrebbe essere o il quarto o il quinto adesso non mi ricordo molto bene, comunque scusate se all'inizio ho sbagliato ma ormai sono abituato a dire V2 perché praticamente ogni giorno carico sul secondo canale un mini pack opening quindi mi raccomando se non l'avete ancora visto andate nel secondo canale secondariamente vi volevo dire un paio di cose, la prima come sempre volevo ricordare di passare da onefifo.com se siete interessati a comprare anche di FIFA e mi raccomando utilizzate il codice Axel con due E come discount code la seconda è che mi scuso se questo video sta uscendo in questo orario che credo vi farò uscire intorno alle 7.30-8 però il video di oggi l'avevo già registrato, solo che c'è stato un problema, ve lo riregistrerò domani e secondariamente perché ho un fottio da studiare, veramente in questi giorni ho un macello di cose quindi io farò anche abbastanza presto perché, perché alle 8.45 giocherà Roma-Bayern Monaco e ragazzi l'andrò a comprare perché infatti io ho Sky Calcio e me, no Sky Sport perché ormai lo dividono si chiama calcio ma non hai tutto il calcio, quindi dovrò andare a comprare perché per me è una partita veramente stupenda io ho uno X, quindi speriamo veramente che la Roma riesca a vincere o pareggiare adesso mi stanno facendo perdere il sito per fare questo video comunque vanno le santi e questa qua è la squadra in cui eravamo rimasti ora ho 678 crediti, non andrò a comprare nessuno perché? perché adesso nel caso in cui andremo a vincere la stagione ancora 10 perché è la seconda volta che vincerò ci daranno dei crediti e riuscirò con più crediti a comprare o un terzino destro o un terzino sinistro o un centro capista centrale, quindi direi di aspettare primo sfidante di oggi 4-1-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3 Ping squad 4-1-1 ho già detto è una sorta di premier serie Aramina attacco oh mio dio Cabella, grandissimo Palla per longa che vede Rodriguez in mezzo Rodriguez! Ci portiamo sull'emantaggio uno a z Per irei la vede Emanuelit Turbe, tiene scarta due Vai in the middle Bravo, grandissimo Long Tiene palla Li scarta tutti Vai, vai No, Dio santo Madonna ciabatta No E no E no Dio santo Oh, è ancora buono invece Vediamo Benaglio Benaglio No, dai L'aveva parata Fale finte Ma non posso perdere Con uno carame in attacco No Per alcuno Bello intanto Long Dai Long Dai Long Non fallirmela Non fallirmela Non fallirmela Necunless Rigore Si ha messo la pala Ma la pala La pala E C'è il gol Mi c'è il gol 2 a 1 I turbe Guarda Manuel Hinton Scarta uno in velocità Avanza I turbe Sempre lui Sempre lui Sempre lui Scarta che portiere 3 a 1 Ti ha da no Vediamo Qui che sta già esultando Per il gol Sta già esultando Madonna che gol Cavella 4 a 1 Questo Lui È una bestia Lui È una bestia Porca Madonna Ciabatta Oddio mi recupera Adesso Mi sta per arrivare Un altro gol Su punizione E l'ho detto 5 a 3 Quante forche Cavella Finalmente Divisione 9 Il computer Non è crashato Ragazzi Primo nostro acquisto Di questo episodio Kieran Gibson Perché mi è piaciuto Un sacco Poiché lo uso In un'altra squadra E quindi voglio comprarlo 1100 crediti Andiamo ovviamente A cercare Quello con più contratti Che è 4 va bene 4 Assegniamolo ora Ed ecco qua Gips Poi volevo prendere Direi Pianitz Perché è un macerio Di voi mi avete detto Che è straforte Quindi andiamola a provare Dai che devo studiare 94 d'intesa Ho brutte sensazioni Per questa partita Bruttissime Ragazzi mi sto incazzando Come una iena Io stavo cambiando La registrazione Questo mi ha segnato Dal primo minuto Dio Subito Invece Long Firmalo 1 a 1 Firmalo Sarei ho così poco tempo Che non sto neanche a pensarlo Ricordi Lo segno Basta Oh gliel'ho passata io Che infame Che infame Che schifo Godo Merda Ganitz Miralem 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 Gol Ti ha fatto E ragazzi Il nostro avversario Ha quittato Quindi abbiamo vinto Tutte le due partite Di questo episodio Questa 5 a 1 Quindi veramente Ottimo E quindi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Se ne volete 3 di partito Ogni episodio Mettete un bel mi piace Perché se arriva 4.000 mi piace Questo video Nel prossimo episodio Ci saranno E quindi Detto questo Non è tanto da dire Mi raccomando Passate da Wafika.com Se siete interessati A comprare Che riviva Detto questo Che ormai L'ho già detto 3 volte Io vi saluto Vi dico Potenta Pala E se nel prossimo video Ciao a tutti